Alberi abbattuti, interruzione di linee elettriche, telefoniche e raffiche di vento oltre i 75 km orari. Nelle ultime ore anche nel Catanese si fa la conta dei danni dopo il maltempo che ha flagellato anche questa parte della Sicilia. Nel Catanese il bilancio più pesante. A causa del forte vento il ramo di un albero ha centrato la copertura superiore di un camion che stava percorrendo la 18, la Messina Catania, tra gli svincoli di Fiume Freddo e Giarre. L'autista e il suo aiutante sono rimasti feriti e soccorsi dei vigili del fuoco. Sono stati trasportati nell'ospedale di Acireale dal personale del 118 dove al primo è stato riscontrato un trauma cerebrale e al secondo invece due contusioni. Il tratto di autostrade è stato chiuso al traffico per ore mentre agli automobilisti fermi la Croce Rossa ha distribuito acqua per alleviare il disagio. Mentre si susseguono gli interventi il comune di Giarre di concerto con la sala operativa del Dipartimento regionale della protezione civile e della prefettura di Catania ha attivato l'unità di crisi. Tantissime le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco di Catania che hanno effettuato decine di interventi. Oltre che dal capologo etneo il maggior numero di richieste di soccorso al centralino di pronti intervento sono giunte da Paternò, Adrano, Giarre e Riposto. Sul fronte metro arriveranno i temporali che persisteranno fino alla prima ora del mattino di domani. Entro stasera è previsto un calo termico di circa 10 gradi.